musica 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 diamo una mano dai va bene va bene bravo Claudio aspetta 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 vuoi continuare vuoi continuare vuoi continuare guarda 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 prova prova bravo 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 portatore portatore test bravo bravo vai bravo 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 dai 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 uomo Simo che arriva eccolo eh bravo va bene bravi bravi bravo Simo bravo Davide via via bravo Martolini senza falli tirare recuperiamo di qua bravo Davide va bene ragazzi Giacomo ora sali ora sali ora sali state l'armi e portate via l'uomo guarda la palla oh vai giù troppi là davanti eh bravoечista bravo solo dai dai Claudio va bene dai dai bravo Simone bravo 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 Giacomo, sali, bravo, bravo, bravo per te, Giacomo. Mi ha avuto perché è giocato a 20 minuti, adesso è gioco. No, indicate perché ti prende voto, fratto. No, no, a me non c'è, devi avuto perché me ne è spartito due. Ah, ok, vuoi che si indica. Tre minuti. Vieni, 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 dovrano. Vieni, dovrano. Vai tu, puntalo, puntalo. Quante vuole? Giro, gira il piazzo. Lo mette in difensore. Emiliano. Ma no, c'è qua, Emiliano, dai. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. L'ho toccato io? Basta avanti, basta avanti. Senza fallo, ragazzi. Senza fallo. Grazie a tutti.